Siamo alle porte del Santuario dei Cetacei vicino ad Ansedonia e stamattina è stato ritrovato il nono caso di spiaggiamento nell'arco di due mesi. Come potete vedere si tratta di un esemplare molto grande, probabilmente uno dei nostri giganti del Mediterraneo, quindi o un capodoglio o una balenottera comune, in avanzato stato di decomposizione. Potete vedere le vertebre, qua nella prima parte si prolunga fino in fondo dove ci sono quei resti bianchi, questa probabilmente è la spina dorsale e non si vede la parte craniale. E' il nono caso di spiaggiamento e la causa probabilmente sarà come al solito di origine antropica, questi animali sono minacciati dalla plastica, un enorme problema per i nostri mari. Sono minacciati dall'eccessivo traffico nautico, soprattutto nella loro casa, il Santuario Pelagos, con un traffico marittimo eccessivo che può causare delle collisioni con le imbarcazioni oppure un inquinamento di tipo acustico e minacciarli. Ci sono tantissime altre minacce che probabilmente ancora non conosciamo, ma che dovremo conoscere per tutelare meglio questi meravigliosi animali.